Nonostante le atrocità commesse a Buccia, i colloqui con Mosca devono continuare. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky che in un videomessaggio fa sapere di avere avviato le indagini per crimini di guerra, poi si rivolge alle madri dei soldati russi. Sentiamolo. Voglio che ogni madre di ogni soldato russo veda i corpi delle persone uccise a Buccia, a Irpin, a Gostomel. Cosa hanno fatto? Perché sono stati uccisi? Perché i normali cittadini in una normale e pacifica cittadina sono stati torturati a morte? Perché le donne sono state strangolate dopo aver strappato loro gli orecchini? Come è potuto accadere che fossero violentate e uccise davanti ai loro figli? Come è possibile che i loro corpi siano stati oltraggiati anche dopo la morte? Perché hanno schiacciato i corpi dei morti con i carri armati? Russia, cosa ti ha fatto la cittadina ucraina di Buccia? Mosca cerca di respingere le accuse e torna a sostenere che le immagini su Buccia siano un falso.